Ciao a tutti ragazzi, sono Isserio Madasemacp e benvenuti in questo ultimo video aggiornamento Perché ultimo? Ho deciso di continuare a Youtube, ma non su questo canale, ho deciso di aprirne uno nuovo Il canale si chiama Insane Games, lo potete trovare in descrizione E... sì, andate ad iscrivervi, se no vi picchio tantissimo No, se no vi vengo a trovare, perché so dove abitate, e ci prendiamo un caffè insieme Comunque andate sul nuovo canale, iscrivetevi, i video d'ora in poi saranno lì Questo è l'ultimo video di questo canale Almeno intendo per video pubblici, forse carico qualcuno privato, giusto per tenervi video Ok, e vedete sullo sfondo un bel cazzo di niente, però sì, non sapevo cosa mettervi Comunque il canale si chiama Insane Games, farò a breve un video di presentazione su quello Intanto andatevi a iscrivervi, intanto andatevi a iscrivervi In italiano, no E... va bene Addio Ci vediamo sul nuovo canale Benvenuti è tutto Io vi saluto, ci vediamo sul nuovo canale Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti